Ultima parte della nostra trasmissione, parleremo di sanità, lo facciamo spesso, cerchiamo di parlarne sempre in termini positivi, anche se spesso e purtroppo malvolentieri le notizie di cronaca ci portano ad occuparci di casi di malasanità. Il Piemonte ha sicuramente un'eccellenza nella sanità, ma come si dice, le brutte notizie fanno più notizia delle buone notizie. Noi cerchiamo invece di ribaltare un po' questa teoria e infatti parleremo di un premio che ha ottenuto l'AMPAS del Piemonte, l'AMPAS è l'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza del Piemonte, presente peraltro in tutta Italia e in tutte le regioni, un premio che ha permesso all'AMPAS di aggiudicarsi, diciamo così, 14 nuove ambulanze. E adesso ne parliamo al telefono con il Presidente regionale di AMPAS, Andrea Bonezzoli. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie. Allora, un vero e proprio premio che vi siete aggiudicati, no? Sì, per fortuna siamo giunti al decimo anno del bando missione soccorso e anche quest'anno Fondazione CRT ha voluto premiare le associazioni dell'AMPAS, come diceva lei, 14 associazioni hanno ricevuto questa donazione per l'acquisto dell'ambulanza. In cosa consiste questo premio annuale? Ma in pratica loro danno una somma giudicataria, un contributo fino al massimo di 45 mila euro per ogni ambulanza acquistata. Quindi le nostre associate adesso acquisteranno i mezzi e poi riceveranno il contributo di 45 mila euro per ogni mezzo acquistato. Diciamo che naturalmente per ogni associazione avere una nuova ambulanza, nuova di zecca, è molto importante. Ormai sono mezzi di primarissima necessità. Certamente. Questo va sempre più anche il bando missione soccorso, poi finalizzato alle ambulanze che svolgono il servizio di emergenza urgenza 118 sul territorio piemontese. La fondazione è giunta al decimo anno con questo bando, mette solamente come condizione che il bando venga richiesto ogni quattro anni, ovvero chi l'ha ricevuta quest'anno poi per tre anni non presenterà domande, l'ha presenterata quattro anni. Ma pensiamo che in questi dieci anni sono state oltre 470-480 ambulanze quelle che sono state donate al volontariato. Diciamo al volontariato perché oltre all'AMPAS vengono anche donate alla Croce Rossa e alle altre associazioni che non riflettono nelle due grandi associazioni nazionali. Presidente, quante associazioni fanno parte di AMPAS? In Piemonte siamo 81 associazioni ad oggi presenti con oltre 8 mila volontari, siamo 8.900, quindi praticamente 9 mila volontari. Con attività svariatissime proprio. Sì, l'attività, quella per cui forse siamo più conosciuti è l'attività del trasporto sanitario, sia quello di emergenza-urgenza, sia i trasporti quelli che noi definiamo ordinari, ovvero i trasporti idealizzati, i trasporti da ospedale all'ospedale. Inoltre da noi è sempre molto sentito anche tutto quello che riguarda il trasporto sociale, quindi abbiamo mezzi per disabili, l'accompagnamento dei ragazzi disabili a scuola, l'accompagnamento degli anziani alle visite. E poi abbiamo tutto l'altro grosso blocco, che è quello che viene attivato in caso di emergenza, che è quello della protezione civile. Ecco, noi stiamo vedendo proprio delle immagini che ci riportano a ottobre scorso, cioè a dieci giorni fa sostanzialmente, anzi alla settimana scorsa, al castello di Racconigi. È lì che c'è stato un po' l'incontro tra tutte le associazioni. Lo scorso giovedì, proprio l'11 di ottobre, alla Margheria del Castello di Racconigi, c'è stata organizzata da Fondazione CRT la consegna simbolica dei nuovi mezzi. Noi li stiamo vedendo, perché sono le immagini che voi giustamente portate a tutte le emittenti locali, all'ufficio stampa, nella fattispecie Luciano Assalato. Quindi noi non solo parliamo di ambulanze, ma le stiamo vedendo. Esatto. Infatti in quella giornata lì c'è la consegna simbolica delle nuove ambulanze, dove vengono invitate tutte le associazioni di volontariato che negli anni hanno ricevuto i mezzi. Quindi se avete visto la carrellata sui mezzi, sono quelle delle missioni soccorso degli anni scorsi, che acquistate e vengono portate per ringraziare la fondazione della consegna di questi mezzi. Quanto c'è bisogno di volontariato di questi tempi? C'è sempre più bisogno. Abbiamo festeggiato domenica scorsa i 105 anni della Croce Verde di Torino. Si pensi che un'associazione come la Croce Verde di Torino in 5 anni ha avuto nuovi ingressi e uscite per oltre 800 volontari. I volontari purtroppo, noi ne abbiamo tanti che entrano e servizioni alla nostra associazione, ma purtroppo i tempi di rimanenza sono sempre più brevi. E quindi c'è sempre più bisogno di nuovi volontari. L'Ampas è conosciuta anche per il settore protezione civile, da sempre molto impegnata ad esempio in casi di terremoto recentemente in Emilia, in precedenza all'Aquila e altrove. Anche questo è un settore importante dell'Ampas? Sì, come già c'è andato prima, è proprio l'altro grande settore. Forse quello meno evidente perché l'Ampas ha associazioni che non svolgono, o se non non in parte, ne abbiamo 4 o 5 sul territorio che fanno esclusivamente protezione civile, altrimenti sono tutte le nostre grandi associazioni che normalmente svolgono i servizi sanitari che poi si attivano in caso di bisogno. L'Ampas Piemonte era presente in tre campi, nell'Emilia, nei due campi di Ampas e poi come colonna piemontese nel campo di San Giacomo. Sono iniziate le smobilizzazioni nel mese di ottobre di questi campi in cui per fortuna la gente sta rientrando ed ormai quasi tutta è rientrata in casa e quindi si inizia con la smobilizzazione dei campi tendati. Per l'Ampas è sicuramente una grande associazione nazionale di protezione civile e penso che anche col Dipartimento sempre più dimostra di essere una delle associazioni con massima affidabilità. Presidente Bonizzoli, l'ultima domanda poi la lascio ai suoi impegni. Noi nel nostro piccolo, nella vita di tutti i giorni, come possiamo aiutare Ampas e tutte le associazioni di volontariato? L'aiuto maggiore è sicuramente quello di chi ha tempo e disponibilità di un po' di tempo libero che si avvicini a una delle nostre associazioni, essendo 81 associazioni sul territorio piemontese ci siamo praticamente in tutte le province, che si avvicini alla realtà più vicina al suo territorio per svolgere attività di volontariato. E poi, vabbè, con questi tempi di restrettezza sono anche sempre ben accette le donazioni e i contributi, i lasciati, che molte volte ci permettono di fare quei servizi che non passa più il servizio sanitario. Perché poi noi con la sola nostra forza non ce la facciamo, ma con il contributo della gente sicuramente possiamo ancora riuscire a svolgere. Per altre informazioni c'è il sito internet www.ampas.piemonte.it. Altre manifestazioni, celebrazioni, festeggiamenti, operazioni all'orizzonte? Ma adesso abbiamo appena terminato, sempre domenica c'è stata una due giorni molto importante dedicata al terremoto, al prevenzione del rischio sismico. A Saluzzo e Pinerolo, vero? Esatto, siamo stati presenti su due piazze a livello piemontese, una manifestazione che è nata su spinta di Ampas nazionale col Dipartimento di Protezione Civile, che si spera nei prossimi anni di riuscire a diffondere su tutto il territorio. Questa è vera attività di informazione e prevenzione. I terremoti non si possono prevenire, ma sicuramente se nella nostra quotidianità apportiamo qualche accorgimento alle nostre abitazioni e poniamo un po' più di attenzione nel caso di terremoto, si possono evitare sicuramente vittime e feriti. Grazie, grazie mille, complimenti per il vostro lavoro, grazie per la sua disponibilità. Andrea Bonizzoli, presidente regionale dell'Ampas Piemonte. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie, grazie mille, grazie alla infaticabile Luciano Salato che ci ha permesso di realizzare questa telefonata. Siamo ormai agli sgoccioli della nostra trasmissione. Chiudiamo un attimo prima. Vi ricordo che l'Ampas svolge un'attività di prevenzione per quanto riguarda il rischio terremoto, informazione e anche vere e proprie esercitazioni per scoprire quello che si può fare in caso di necessità. Ampas che è presente in maniera capillare in tutto il Piemonte, provincia per provincia. Per informazioni, per volontariato, per dare un po' del vostro tempo libero, per offerte e donazioni visitate il sito www.ampaspiemonte.it. Peraltro, a uso degli organi di informazione, è stato presentato anche questo DVD Ampas, Sisma 2012, l'impegno dell'Ampas, nelle zone colpite dal terremoto del maggio scorso in Emilia, Veneto e Lombardia. A tal proposito, vi ricordo, tra le tante iniziative di solidarietà, il concerto di stasera alle 9 ad Alba, al Teatro Sociale Busca, con un'esibizione e concerto della corale Corus 2000, diretta dal maestro Battaglia. L'intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alla ricostruzione della scuola media di Sant'Agostino, provincia di Ferrara, che è il mio paese di origine e che è stato profondamente toccato dal terremoto di maggio. Noi diamo spazio quindi a tutte le associazioni di volontariato, lo facciamo in particolare al mercoledì con la rubrica dedicata al forum del volontariato. Chiedo lumi alla regia, mi sa che possiamo chiudere, tanto siamo ormai agli ultimi focchi della nostra trasmissione, ma non vi preoccupate perché gente che palla ritorna puntualmente domattina alle 8 con la rassegna stampa, dalle 8 alle 11 e mezza con tanti argomenti, dove? Su Quarta Rete. Perché? Perché questa è la nostra televisione.